buongiorno amici oggi vi porto a fare una passeggiata nel bosco della missola una riserva naturale in provincia di Ferrara andiamo eccoci qua al parcheggio di Lidl aspettiamo il pullman che ci viene a prendere prendiamo l'autostrada direzione Rossellino ecco amici siamo arrivati al parcheggio del parco della missola adesso camminiamo per entrare al parco andiamo adesso iniziamo il percorso si prende il percorso entriamo all'ingresso del bosco della missola andiamo 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 ecco amici proseguiamo il percorso con il cartello rosso che è il più lungo percorso di questo parco andiamo ecco amici ecco amici e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.